Solo sorrisi per l'Abruzzo nella quarta giornata di ritorno in Serie D. Tre vittorie in altrettante sfide con Castelnuovo e Notaresco che si impongono in trasferta e il successo al Castrum per il Giulianova. Partendo dalla vetta al capo Iprati di Fiuggi, la squadra di Massimo Epifani soffre, manca una rete clamorosa con Dos Santos, ma viene premiata negli sforzi dall'errore del giovane Azzeni, portiere dei padroni di casa tradito dal rimbalzo fasullo del pallone al momento del retropassaggio di Del Duca. Tre punti fondamentali per il Notaresco, anche alla luce, del pareggio del campo basso sul campo del Monte Giorgio, che porta le due formazioni ad un punto di distanza l'una dall'altra, ma con i molisani che hanno una partita in meno rispetto ai rivali. Sono tre punti importantissimi in un campo difficile. In primo tempo sapevamo che loro, specialmente in casa loro, giocano bene, abbiamo faticato perché accorcevamo un pochettino il ritardo. Arrivavamo sempre fuori tempo, un paio di volte ci siamo trovati in difficoltà, poi il secondo tempo invece la partita è cambiata. Abbiamo fatto molto molto meglio, abbiamo creato qualche occasione da gol e poi siamo stati premiati per gli ultimi 25 minuti, mezz'ora, che abbiamo alzato il ritmo e siamo stati fortunati sul gol, ma credo che abbiamo avuto due o tre occasioni importanti dove potevamo segnare prima. Trema, ma riesce a risolvere la pratica del Civitella e il Castelnuovo. I neroverdi rischiano perché vanno sotto per effetto della rete realizzata da Abercon, ma alloviso si dimostra come al solito l'uomo in più anche quando non va a segno. Sono suoi infatti i due assist che permettono a Fagioli nel primo tempo e a Andoie nella ripresa di ribaltare la sfida e continuare la rincorsa alle parti nobilissime della graduatoria. Castelnuovo che con questo successo sale a quota 40 punti, salvezza ormai in tasca e da adesso in avanti la possibilità di giocare senza Patemi le restanti gare di campionato. Noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione, quello sì è vero che ormai sarebbe una falsa modestia per continuare a dire che pensiamo alla salvezza perché l'avremmo quasi raggiunta anche se mancano ancora tante partite. Però noi dobbiamo continuare a divertirci e a pensare non a chissà che cosa, dobbiamo pensare come abbiamo fatto fino adesso ad affrontare l'avversario ogni domenica nel migliore dei modi, cercare di allenarci durante la settimana per provare a batterlo. Poi se ci riusciamo bene altrimenti fa niente. Dopo nove tentativi andati a vuoto al decimo il Giulianova sfata il tabù interno e vince la prima gara tra le mura amiche del campionato. E' una doppietta di Federico Barlafante a regalare tre punti fondamentali ai giallorossi che recriminano anche per un calcio di rigore non assegnato nel primo tempo per fallo netto in area di rigore su Paudice. Una settimana peraltro che aveva visto anche il successo d'Agnone. Sei punti dunque in quattro giorni che danno nuova linfa al Giulianova per una rimonta che adesso non sembra più così impossibile a patto che l'undici di Leonardo Bitetto continui a dare segnali di vitalità come nelle ultime settimane. Insomma oggi è stato il miglior Giulianova della stagione. Sì, senza dubbio, senza dubbio anche perché la partita l'abbiamo fatta noi sin dall'inizio. Abbiamo giocato una bella gara, una gara che ci concilia anche con il gioco del calcio. Insomma, cosa che purtroppo non avevamo ancora fatto fino ad oggi. Le due vittorie di seguito sono molto molto salutari. Ma ripeto, poi sono state due vittorie increscendo, increscendo come prestazione, come gioco ma soprattutto come aggressività. La squadra oggi è stata una squadra molto aggressiva, portava pressione, rubava palla, ripartiva. Giulianova che sabato recupera il match contro il Matese in attesa che anche la situazione Pineto si sblocchi Con quella non disputata ieri con la Vastese fanno infatti otto rinvii e i casi, cinque che permangono nel gruppo squadra bianca-azzurro, rischiano di far saltare anche il primo recupero con l'Olimpia agnonese. Il campionato domenica si ferma per permettere di sbaltire un po' del programma che si è lasciato alle spalle. Ma non sarà semplice, anche considerando che molti dei recuperi potrebbero saltare ulteriormente.